Musica Buonasera a tutti voi telespettatori, oggi lunedì di Pasquetta, vediamo insieme i fatti principali della settimana. Costo 11 milioni di euro, 1650 posti riducibili a 1000 o a 600, 81 metri per 55 di ampiezza, 27 metri di torre scenica, 339 metri quadri di camerini, 594 di palcoscenico. Ecco quello che potrebbe essere il nuovo teatro di Bassano, costruito nell'area del Parc Le Piazze all'ex ospedale, un progetto studiato nei minimi dettagli da Loris Parise, fondatore e per anni direttore artistico delle festival di opere estate, che sottolinea il bisogno che ha Bassano e tutto il territorio della Pedemontana di un teatro, un teatro vero. Che sia un teatro che abbia un'architettura minimalista e cioè a basso costo e che abbia la possibilità di soddisfare il pubblico con un biglietto onorevolmente basso, questo è il punto. Perché noi dobbiamo portare le famiglie a teatro, noi puntiamo su un nuovo teatro di fatto senza dover rimaneggiare, riadattare eccetera eccetera. Alla fine della fiera costo uguale. Anzi i costi, ha sottolineato Parise, sono di gran lunga inferiori rispetto a un eventuale restauro dell'astra, per cui il comune dovrebbe prima diventarne proprietario, sborsando un'esagerazione di 3 milioni e mezzo di euro e quindi rivoluzionare l'attuale edificio con un'ulteriore spesa difficilmente sostenibile. La posizione di un teatro ex novo all'ex ospedale, in proprietà già del comune, prosegue garantisce gli spazi necessari a chiunque voglia recarsi a teatro. L'abbiamo previsto sia per la Val Sugana con il trenino, sia per Cittadellese e la parte dell'Alta Padovana e del Trevigiano con Castelfranco, ci sono i treni. Per esempio la domenica pomeriggio le famiglie possono venire in treno e andare a casa in treno e farsi anche una passeggiata a Bassano. E Bassano a questo proposito ha un compito molto importante. Cercare di formare un progetto d'insieme che sia funzionale per tutti e soprattutto per il territorio e per quanto riguarda anche l'immagine che si deve dare a un territorio sul piano sia produttivo che turistico che culturale. Un teatro da oltre 1600 posti nell'area dell'ex ospedale, un progetto capaci di riportare Bassano al centro della scena culturale veneta. E' questa la proposta avanzata all'amministrazione comunale da Loris Parise, fondatore per anni direttore artistico di Opera Estate Festival. Un progetto osservato con attenzione dalla Giunta Poletto. Non è un'assoluta novità perché è un progetto che ad esempio l'assessore Luciano Fabri si scaldeggiava parecchio ed era stato impredicato di essere realizzato poco dopo l'acquisto dell'area vecchio ospedale. Per cui è una possibilità che Bassano per l'addizione ha sempre tenuto presente. Tra gli 11 e i 13 milioni di euro il costo ipotizzato per la realizzazione del nuovo teatro, una cifra considerevole ma non insostenibile. Questa ipotesi di 1500-1600 posti di un teatro a livello regionale è quella che ha bisogno di maggiori risorse. Però se arrivasse a queste risorse è un pensiero che si può fare. Un teatro da realizzare ex novo al Parc Le Piazze dunque, l'ampliamento del teatro da ponte del centro giovanile, un acquisto e il successivo restauro dello storico teatro Astra. Questi al momento i tre scenari possibili. Altre eventualità ad oggi non ne abbiamo mai sentite prospettare e dalle nostre riflessioni non sono emerse. Il dato più importante è oggi cercare dei finanziamenti perché servono finanziamenti sia per l'acquisto di un eventuale edificio da ristrutturare ma sia soprattutto per la realizzazione di un teatro di proporzioni ragguardevoli. Non sono tempi facili, però non bisogna gettare la spugna prima di cominciare a combattere e a procurare questa metafora. Qualche percorso lo stiamo già tentando di imbastire e speriamo che poi dia luogo a qualche concretezza. Bruxelles poco prima delle 8 due esplosioni colpiscono la hall delle partenze dell'aeroporto internazionale di Zaventem, lo scalo principale della capitale belga, distante 15 chilometri dal centro città. Neppure il tempo di rendersi conto di quello che era appena accaduto alle 9.30, altra deflagrazione alla metropolitana di Melbeck, nel cuore del quartiere amministrativo di Schumann, a poche centinaia di metri dalla sere dell'Unione Europea. 34 i morti. Una mattinata di terrore a Bruxelles, colpita dalla follia del terrorismo. A pochi metri dalla metropolitana fatta esplodere da un kamikaze, Paolo Patruno, 32enne di Cassola, da 5 anni e mezzo per lavoro nella capitale del Belgio, stava facendo colazione al bar prima di recarsi in ufficio. È lui che ci racconta una città che brancola nel buio. A un certo punto ho sentito un tremore, ho visto, sono uscito fuori dal bar, dove ero con dei colleghi, ho visto per strada gente che urlava, nel frattempo altri che venivano su dalla metropolitana, qualche ferito lieve, poi mano a mano sempre più malconci, ho capito, ho realizzato cosa era successo. Che aria si sta respirando in queste ore? La città è sotto controllo, non so quale sarà e quando ci sarà un ritorno alla normalità. Un attacco multiplo, come quello di questa mattina, immagino che vogliano fare in modo di evitare che ce ne possa essere un terzo in giornata, in giro da qualche altra parte. Hanno chiuso, parte dei trasporti pubblici sono sospesi, quindi le stazioni sono chiuse, l'aeroporto è chiuso, quindi stanno cercando di fare in modo proprio di ridurre al minimo anche i rischi. Adesso mi dicevano poco fa che hanno chiuso anche un mall, un centro commerciale, quindi si è ritornati a quello che abbiamo vissuto i giorni successivi a Parigi. L'unica differenza è che questa volta l'abbiamo visto qui in diretta. Hanno colpito comunque un luogo simbolo dell'Unione Europea. Adesso in molti hanno paura. L'atteggiamento di bloccare e paralitare la città come era successo mesi fa era anche stato criticato, perché comunque era un dargli la vinta in modo sbagliato e in modalità sbagliata a chi poi manovra questi attentatori. 1730. Tanti sono i posti disponibili in provincia di Vicenza per dare ospitalità ai profughi. A stabilirlo la graduatoria definitiva stirata dalla Prefettura in risposta al bando istituito a Vicenza per individuare i cosiddetti ricoveri temporanei in cui dare alloggi ai richiedenti asilo, da qui fino alla fine di quest'anno. Una trentina tra cooperative, associazioni e strutture di vario tipo hanno risposto al bando e tra loro anche la Bassanese Casa a Colori e la Marosticense La Goccia. Per quanto riguarda la struttura cittadina guidata da Enrico Parolin, l'autorizzazione è ad ospitare 52 profughi, una decina in più di quelli già presenti nelle strutture di Casa a Colori, distribuite tra Bassano e Cassola e di poco superiori al numero di 47, ospitati dall'associazione solo fino a qualche settimana fa. Poco o nulla cambia anche per la Marosticense La Goccia, salita agli onori della cronaca in occasione dell'accoltellamento tra rifugiati avvenuto in un appartamento di Mussolente e che potrà dare accoglienza fino a un massimo di 18 persone. Cinque invece, quelle ospitate dalla cooperativa Il Faggio di Asiago. A far riflettere però è l'autorizzazione concessa alla cooperativa Contè di Quinto Vicentino, che ha in gestione la ventina di richiedenti asilo alloggiati in quartiere San Vito e ritenuta in grado di dare accoglienza fino a 370 profughi, una marea di non facile gestione se non adeguatamente distribuita sul territorio provinciale. Ciò che noi non vogliamo assolutamente che accada a Bassano è che in strutture molto grandi vengono accolti numeri davvero importanti di richiedenti asilo perché siamo convinti che l'unica maniera per gestire un attimo il fenomeno sia l'accoglienza diffusa, cosa che a Bassano, come anche in molte altre parti della provincia, si fa da parecchio tempo. Da qui la volontà dell'amministrazione Poletto di firmare un accordo con la prefettura che limiti il numero di richiedenti asilo fino a un numero massimo di 2 ogni 1000 abitanti che nel caso di Bassano vorrebbe dire 85, ovvero una ventina in più di quelli già presenti in città. Sineco, lei ha augurato ai suoi compaesani una buona Pasqua nella speranza che non arrivino i profughi. Non le sembra in contraddizione col messaggio del Papa che parla di accoglienza? Beh, io personalmente sono dell'avviso che Fonte non merita altri stranieri perché siamo già al top della classifica nazionale. Non credo neanche che sia in contrasto con quanto dice Papa Francesco visto che lui stesso parla di accoglienza diffusa e non credo che l'offerta di 228 persone da portare o ne di Fonte vada in questa direzione e tutt'altro. Sono auguri pasquali contrassegnati dall'incertezza a quelli che il primo cittadino di Fonte ha inviato tramite mail ai suoi compaesani. Sul comune pende la spada di Damocle del possibile arrivo di 228 profughi nell'ex convento di Maria Bambina, una cifra giudicata spropositata da sindaco e cittadini e sicuramente non all'insegna dell'ospitalità diffusa in un paese che conta appena 6.000 abitanti. Giovedì un nuovo incontro con il prefetto di Treviso, Laura Leiga, non ha portato novità. Cosa le ha risposto il prefetto? Il prefetto che terrà conto di tutte le nostre istanze però anche lei si muove all'interno di un quadro normativo ben preciso e mi ha detto anche che ci vorranno ancora una o due settimane e quindi ormai una decina di giorni per sapere l'esito della commissione che sta valutando il bando. Quindi siamo in dirittura d'arrivo? Sì, siamo in dirittura d'arrivo. Penso che appunto nel giro di 10 giorni, 15 al massimo, si sappia qualcosa. Il paese attende con apprensione. La petizione di 3.600 firme raccolte contro un arrivo di massa e la follata fiaccolata del 26 febbraio a cui partecipò anche il presidente della regione Luca Zaia testimoniano una volontà che gli abitanti di Fonte e il loro sindaco si augurano venga tenuta in considerazione. In tanti lo scorso fine settimana hanno visitato il museo civico di Bassano in occasione della giornata di primavera del FAI e la scelta del museo non è stata casuale ci spiega la referente bassanese del FAI Maria Rosa Zanotto. Ci siamo proprio decisi tutti che era ora di aprire in modo positivo questo museo La dimostrazione è stata soprattutto quello che abbiamo recepito quando la gente è uscita. C'è una grande meraviglia, una grande contentezza di avere visto tutte queste ricchezze che non se le aspettavano. Noi ve l'abbiamo fatto vedere, è stata una passeggiata però adesso che avete visto le qualità di questo museo che rende ancora di più proprio per la bellezza del sito anche dove sono esposte le opere. Veniteci! Parlando di museo, proprio in occasione del rinnovo del direttore della struttura bassanese Maria Rosa Zanotto ha ben chiaro come dovrebbe essere. Che sia moderno, che capisca bene le necessità di questo museo e soprattutto alla fine, scusatemi, che sia democratico nel senso che ascolti la gente e che poi metta in pratica, tenga in considerazione quello che la gente dice. Perché guardate che domenica era la gente semplice che è venuta il museo è aperto per la gente semplice questi beni che sono del popolo, perché sono di tutti noi sono loro che ne fanno, poi decretano il successo o meno per cui andiamo incontro a questa gente e soprattutto che abbia idee innovative, che ci siano progetti perché io in questi mesi che sono qui dentro non ho sentito parlare di un progetto futuro. Quando parla della necessità di un nuovo direttore democratico la democrazia è mancata fino ad oggi? Beh, non punterei il dito su questo particolare che deve essere soprattutto democratico se prima ci fosse già stata democrazia è proprio perché si è sentita la mancanza di questo che io punto il dito bravo, bello, capace, quello che volete ma soprattutto democratico. Anche Bassano è sempre più povera la crisi morde, il lavoro che viene a mancare così si moltiplicano le famiglie colpite da gravi difficoltà economiche. Ci sono delle difficoltà che sono inimmaginabili che si sembrano tanto lontane e in realtà sono vicine ci sono famiglie a Bassano ci sono famiglie italiane anche non soltanto straniere che si trovano in situazione di dover decidere se pagare le utenze o fare la spesa ci sono famiglie che non hanno l'acqua e usano l'acqua pubblica ci sono famiglie che rinunciano al riscaldamento pur di riuscire a mantenere i propri figli e portarli a scuola. E i numeri purtroppo sono costantemente in crescita sempre più persone sono costrette a rivolgersi ai servizi sociali del comune per chiedere un aiuto per l'80% sono italiane. Abbiamo un aumento delle famiglie che si approcciano ai servizi sociali e sono comunque anche famiglie italiane che vengono in punta di piedi con grande sofferenza ma che bussano per dirci dateci una mano. E per 37 famiglie bassanesi ora è pronto un aiuto concreto delle schede prepagate da 100 euro l'una che serviranno per fare la spesa 18.000 euro in totale la somma caricata nelle 180 tessere che Lions Club Bassanosta ha consegnato stamattina nelle mani del sindaco e che saranno distribuite alle persone più bisognose quelle che non riescono neppure a comprarsi da mangiare. Abbiamo individuato famiglie monogenitoriali quindi un genitore con figli stiamo parlando soprattutto di mamme con figli minori persone che vivono da sole quindi anziani ma anche giovani che si sono trovate senza lavoro che non hanno più di che vivere oppure famiglie che hanno entrambi i genitori con i figli o famiglie composte anche da soli adulti quindi veramente una varietà Non pareva giusto denunciare questa situazione che era veramente fuori da ogni logica e che poteva essere vissuta come un abuso di potere anche da parte delle autorità della polizia locale nei confronti dei cittadini La sua battaglia l'aveva iniziata così raccontandola ai microfoni di Rete Veneta e alla fine era vinta per una volta infatti si può dire che la multa se la possiamo definire così dovranno pagarla i vigili Il comune di Bassano del Grappa è stato infatti condannato dal giudice di pace a risarcire le spese legali oltre che ad annullare la singolare sanzione che era stata elevata a Maria Grazia Pivotto rea di essere caduta in bicicletta in via campesana a causa dell'asfalto dissestato provocandosi tra l'altro ferite per due settimane di prognosi Alla ciclista multata per 41 euro era stato contestato il non essere riuscita a mantenere il controllo del mezzo una motivazione che aveva da subito sollevato un polverone di polemiche In comune dove a dir la verità l'amministrazione aveva da subito preso le distanze dalla decisione della polizia locale si attende di saperne di più Non ho gli elementi per poter per poter valutare nello specifico da un punto di vista giuridico la scelta del giudice di pace che comunque accettiamo e rispettiamo come amministrazione il sindaco in persona si è scusato personalmente con la ciclista tra l'altro abbiamo fatto anche un'indagine interna con cui abbiamo ci siamo trovati a parlare a confrontarsi con il vigile interessato della questione abbiamo cercato di capire e fare in modo che situazioni di questo genere non si ripetano mai più infatti non si sono più ripetute Ma la vicenda non finisce qui Maria Grazia Pivotto ha già fatto sapere di voler andare fino in fondo al comune di Bassano chiederà ora anche il risarcimento dei danni morali e materiali la sua battaglia continua Non piace a tutti la settimana corta è istituita alle medie Piero Bond al comune di Cittadella per il prossimo anno scolastico in comune sono state depositate infatti diverse firme per chiedere l'annullamento della delibera che istituisce il nuovo orario scolastico tutti in classe dal lunedì al venerdì e sabato a casa le famiglie contrarie alla scelta comunale hanno paventato la possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo ricorrendo anche al TAR di Venezia a far specie che per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria di Cittadella la settimana breve è già realtà da tempo mentre la decisione di estendere il sabato a casa anche al grado di istruzione successivo sta sollevando critiche inattese eppure prima di cambiare rotta l'amministrazione cittadellese aveva effettuato un sondaggio fra le famiglie che aveva raccolto il favore del 70% dei genitori l'obiettivo della settimana corta nelle intenzioni del comune voleva essere duplice da una parte quello di consentire ai genitori di rimanere più tempo con i propri figli dall'altra un risparmio per le casse comunali che l'amministrazione avrebbe provveduto ad investire in progetti didattici ad oggi il comune ha fatto sapere comunque di non voler tornare indietro la parola dunque passa ai genitori bandiere a mezzasta in segno di lutto in municipio a Bassano la città del Grappa esprime anche così la sua solidarietà e la sua vicinanza a Bruxelles alla popolazione belga e a tutte le persone direttamente colpite dai terribili attentati che hanno scosso il cuore dell'Europa cordoglio e solidarietà a questo popolo colpito alle vittime che ci sono state diverse nazionalità gli atti sono gravissimi vanno condannati senza se e senza ma in questo caso serve una reazione forte che non può essere soltanto di pancia ma ci deve essere una organizzazione importante delle polizie europee che interviene per scongiurare questi fatti e il comune di Bassano sceglie anche i social per esprimere il proprio cordoglio ma ci scappa la gaff perché la bandiera pubblicata sulla pagina Facebook è quella della Germania e non quella belga anche se il post è stato prontamente rimosso dal gestore del profilo in pochi minuti ha fatto il giro del web suscitando commenti impietosi c'è stato un errore copia in colla sbagliato di qualche minuto subito corretto questo non cambia quello che è il messaggio che Bassano vuole dare di solidarietà con il popolo belga in questo caso come l'ha fatto con il popolo francese quando ci sono stati gli attentati qualche mese fa insomma quindi rimaniamo sulle cose importanti in questo momento lo riconoscete? quante volte avete passeggiato lì sopra e chi tra i bassanesi non è entrato almeno una volta alla taverna degli alpini è questa l'incredibile riproduzione del Ponte Vecchio realizzata interamente in lego da Ruggero Comacchio farmacista di professione e per passione amante dei mattoncini più famosi al mondo era un'idea con alcuni amici di fare qualcosa di rappresentativo così del Veneto in generale non ci siamo messi d'accordo e allora ho pensato provo a vedere se riesco a farlo io e dopo ho cominciato e mi sono fatto un po' prendere la mano insomma oltre 20.000 ai pezzi? a occhio sì perché solo dell'acqua e la parte trasparente sono 7.000 quei pezzettini piccoli trasparenti forse sono anche di più ma è una stima così molto sparnometrica 7-8 mesi di lavoro prima un progetto su carta poi un bozzetto di prova fino alla creazione definitiva con mattoncini in arrivo da tutta Europa sul ponte a parte il classico alpino che non poteva mancare rockstar un po' di tutto sì siccome mi piace anche agli adulti essendo una cosa così grande un progetto architettonico però vuole avere anche essendo gli leggo un gioco vuole avere anche degli aspetti simpatici giocosi quindi magari i supereroi da Nardini piuttosto che le rockstar sul ponte appunto quindi ci sono tanti particolari gli sposi che si fanno la foto sul balcone e dopo il ponte vecchio Ruggero Comacchio sta già pensando a nuovi progetti mi piacerebbe fare la piazza degli scacchi di Varostica anche ho in mente una cosa in una scala diversa però un po' micro del castello di Castelfranco essendo abitando io da quelle parti il ponte rimarrà esposto da oggi in questa vetrina all'angolo tra via Matteotti e via Gamba di proprietà del comune ecco i risultati di analisi dell'acqua effettuata da Etra nel comune di Cervarese e Santa Croce i dati che vi presentiamo rappresentano le medie sulle analisi effettuate e attestano la purezza microbiologica dell'acqua che ogni giorno sgorga dal vostro rubinetto da casa potete fare il confronto tra i dati riportati in queste tabelle e gli stessi che trovate nelle etichette delle acque in bottiglia ecco i dati più significativi per attestare la purezza e la salubrità dell'acqua il pH ovvero l'indicatore di acidità è di 7,46 il residuo secco è pari a 274 mg per litro colore e odore sono assenti il calcio è pari a 68,7 mg per litro i fluoruri hanno un valore inferiore a 0,10 mg per litro il potassio è inferiore ai 5 mg per litro il magnesio si attesta sui 24,8 mg per litro i dati sono stati forniti da Etra che si occupa di monitorare l'acqua assieme alle ULS in tutto il territorio di sua competenza grazie per essere stati in nostra compagnia vi auguro una buona continuazione di serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti